Fino ad adesso abbiamo parlato di aspetto alla didattica, all'emergenza educativa, ai rapporti con le famiglie, all'ansia e poi invece ci siamo spostati dalla parte opposta sugli ambienti, sui contenuti digitali. Credo che a questo punto dovremmo entrare un po' nel vivo dell'educazione della cittadinanza digitale e quindi parlare un po' di crisi e di didattica a distanza. La prima domanda che ti vorrei fare è relativa alla questione dei diritti, è una domanda in realtà molto impegnativa secondo me, secondo te in democrazia i diritti vanno rispettati sempre e comunque oppure ci possono essere delle situazioni di crisi in cui alcuni diritti possono essere limitati o addirittura soppressi? Sì, in effetti questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che forse non ha attirato l'attenzione di tutti. È evidente che siamo in una situazione di crisi e che quindi anche in democrazia, in una situazione di crisi, i diritti possono essere sospesi, non aboliti. Direi che su questo sono importanti i tre interventi del garante della privacy, Soro e poi un richiamo della Presidente della Consulta Costituzionale. Allora, intanto i diritti in democrazia possono essere sospesi o limitati, non aboliti, nella scuola e fuori. Le caratteristiche che devono avere queste sospensioni, secondo Soro, sono uno che deve essere deciso dal governo e non da enti locali, quindi regioni, comuni, eccetera. La seconda condizione è che siano ben delimitate le mancanze, la parte mancante di questi diritti e la terza condizione, che chiarisce Soro, è che siano delle limitazioni a tempo. È evidente che in democrazia il processo è più complesso che nelle dittature. In Cina il governo ha stabilito quando è cominciata la crisi del coronavirus e ha deciso anche quando è finita, respingendo pazienti malati perché ufficialmente la crisi non esisteva più. Il problema delle democrazie, anche delle democrazie malate come la nostra, è che bisogna tener conto dei diritti ma anche della conflittualità. A volte farà un delitto e l'altro, pensiamo al diritto alla salute e al diritto al lavoro in questo momento. È importante anche sottolineare come siano dieci i diritti che sono in via di limitazione in questo momento in relazione agli articoli della Costituzione che li sanciscono. Per quanto riguarda la scuola, il garante è dovuto intervenire su due argomenti. Il primo è quello delle piattaforme in uso nella scuola, dicendo che bisogna valutare caso per caso. E cito Questo vuol dire che quei fornitori che permettono l'uso del servizio gratuito di una piattaforma, solo se si accetta che vengano assorbiti, vengono presi dei dati sulle famiglie o sui ragazzi, Ci sono nella illegalità, questa è la parola che viene usata. Rispetto a questo, diciamo che la scuola è stata lasciata un po' sola. Perché? Perché i contratti sia della linea sia di utilizzo delle piattaforme li fanno i dirigenti scolastici. Quindi sono parte dell'autonomia ma anche della responsabilità. E dall'altra parte il ministero dell'istruzione, nel sito che è aperto sulla didattica a distanza, ha in realtà messo in vetrina delle piattaforme di Google, di Microsoft, di Apple, poi di Team e di altri, praticamente di quelli che Rampini ha chiamato nel suo libro i cattivi padroni della rete. Cioè quelli che vivono con i nostri dati e rubandoci i nostri dati. Un secondo intervento del garante della privacy è legato all'uso da parte delle scuole delle tecnologie. Viene ribadito il principio della correttezza e quindi della legittimità della scuola nel trattare dati personali degli allievi e delle famiglie, purché siano coerenti e non eccedenti le finalità della scuola. Quindi praticamente questo è un po' il panorama e anche il limite entro il quale dobbiamo fare attenzione a utilizzare le tecnologie della didattica a distanza. Questo mi sembra molto importante che il garante abbia credito queste cose, tra l'altro non ha fatto altro che ridire quello che già era scritto dentro al GDPR, quindi qualcosa che in teoria tutti noi dovremmo sapere, almeno tutti quelli che si occupano di dati personali. Questo, scusami un inciso, ma è una questione che sta rivenendo un po' a galla quando si parla dell'app per il tracciamento. Anche lì ci sono pareri, idee, eccetera, però poi dopo quello che c'è scritto nel GDPR c'è scritto. Quindi su quello c'è anche poco da interpretare. Questo aspetto, questo collegamento con l'app per il tracciamento sembra un po' per grido, ma in realtà qui anche c'è una domanda. Questa è una crisi sanitaria oppure invece è proprio una situazione di stainanza agita? Queste sono parole tue, le sto citando. Delorosa sicuramente, però insomma da cui si può imparare qualcosa. Direi che questo è il tema centrale e soprattutto è il tema di collegamento con la rubrica dalla educazione civica alla cittadinanza digitale. Io credo che questa situazione di crisi sia anche stata un enorme laboratorio dal vivo purtroppo, con tante sofferenze, di educazione alla cittadinanza e alla cittadinanza digitale in tempi di crisi. Per questo ad alcuni colleghi che mi chiedevano consiglio perché non sapevano bene da che parte cominciare, io gli dicevo piuttosto, cercate di utilizzare, di vivere questa esperienza come un'esperienza di cittadinanza agita. E quindi interrogatevi, fate una ricerca, interrogatevi con i vostri ragazzi su quello che sta succedendo. Dal punto di vista della cittadinanza, per esempio, il senso civico. Cioè i cittadini rispettano le regole che sono state date, i cittadini hanno rispetto degli altri, quindi portano la mascherina per esempio. Ci sono elementi, atti di esempi di solidarietà e così via. Cioè vedere come emerge all'interno di una situazione di crisi una maggiore rispetto degli altri della cittadinanza e anche una maggiore solidarietà che ci auguriamo tutti duri nel tempo. Ma anche una riflessione e anche un'esperienza di cittadinanza digitale, vissuta. Come stiamo usando la rete? Cosa ci consente? Per esempio ci consente delle relazioni, altrimenti impossibile. Ci consente di proseguire con l'apprendimento, ci consente dei contatti sociali, delle ricerche, dei lavori e così via. Un altro elemento che è emerso è che dopo un periodo di tempo abbastanza lungo in cui valeva un po' il discorso di Nichols nel suo libro La fine della conoscenza, che può essere riassunto nella frase di Asimov che è relativa agli Stati Uniti ormai pensiamo attraverso la rete di sapere tutto, tutti e di più e quindi per esempio lo slogan che lui ha cognato è La mia ignoranza vale quanto la tua competenza. Quindi una svalutazione negli ultimi anni della conoscenza e della competenza nei confronti dei tutologi della rete Come dicevamo la sottolineatura è venuta anche dalla dottoressa Aiello Il problema è di vedere se passata la prima fase in cui tutti avevamo anche un po' paura si verifica una situazione di maggiore rispetto e di maggiore attenzione rispetto agli scienziati, ai medici, agli epidemiologi, ai ricercatori e così via o se è passata la paura e chissà quando passerà la paura e quando passerà la crisi torniamo a pensare che internet o la nostra opinione valga quanto quella di uno che ha studiato per tutta la vita Un terzo filone di ragionamento è un laboratorio di tipo linguistico Cioè la lingua che noi usiamo nella vita di tutti i giorni in presenza è la lingua che viviamo attraverso il digitale E quindi il filone del linguaggio, della comunicazione, della relazione attraverso queste comunicazioni dei vari problemi, dicevamo, anche legati alle parole chiave e alla narrazione che noi riusciamo a fare di questa situazione ai nostri ragazzi La Wallace, che è una psicolinguista, ha sostenuto in un suo libro che la lingua della rete è una lingua più semplificata, più rozza e quindi apparentemente più aggressiva In realtà noi abbiamo avuto la possibilità nella didattica a distanza di utilizzare diversi modi di interagire attraverso la rete dalle mail ai post ma anche alla videoconferenza Direi che le mail non sono un buono strumento di comunicazione perché a volte una mail può essere fraintesa quindi il solo linguaggio scritto, i post e così via a volte danno origine a delle discussioni infinite che in realtà poggiano su una incomprensione La videoconferenza, se non altro, ci permette di guardarci in faccia come classe, di guardare i nostri allievi la loro faccia, i loro occhi, la posizione del loro corpo e quindi di renderci conto del loro atteggiamento come feedback, se sono attenti, se sono annoiati e così via quindi le piattaforme in qualche modo sono un po' servite a questo Un'altra e ultima osservazione è questa Questa è stata un'ottima occasione per costruire e sperimentare una cultura e una cittadinanza digitale Direi più cultura che cittadinanza intesa come utilizzo e voluto degli strumenti dal vivo e insieme, tutti insieme allievi e allievi con i docenti Noi nella nostra scuola abbiamo una collezione di strumenti, di tecnologie digitali che ci sono state proposte in vari momenti classi 2.0, LIM, classi 3.0 e così via che non hanno nessun futuro perché non sono sostenibili dal punto di vista economico una LIM costa 2600 euro in media e fatto un calcolo delle classi se si dovesse dare una LIM a ogni classe ci sarebbe da spendere tra i 5 e i 6 miliardi che non abbiamo Questo succede anche per le altre situazioni tipo classi 3.0 per esempio e così via Quindi la macchia di Ropardo è anche legata al fatto che ognuno ha alcune tecnologie e non altre quindi deve adattarsi a questo Dall'altra parte abbiamo fatto i conti con il fatto che la formazione docente dopo 25 anni non è al punto in cui pensavamo perché quello che è successo è che la distribuzione di strumenti è stata seguita da un addestramento più che formazione all'uso di quegli strumenti l'uso della LIM oggi l'uso delle piattaforme ma questo significa non ancora didattica digitale e soprattutto non significa cultura digitale cioè consapevolezza di quello che è realmente la rete cioè del mondo web in cui viviamo quindi io credo che sarebbe e sarà diciamo auspicabile che questa la prosecuzione di questa esperienza diventi una ricerca una riflessione su quello che sta succedendo ma anche su quello che noi stiamo vivendo speriamolo un'ultima domanda che è legata un po' a diciamo a due a due possibili varianti quindi scegli tu da quelle parti prenderlo allora prima prendiamo da questo punto di vista chiaramente per sapere quello che sta succedendo per monitorare quello che succede per esempio in una classe in presenza dici ci sono degli elementi gli indizi chiari se vogliamo monitorare una classe a distanza invece dobbiamo prendere da qualche parte questi altri dati la videoconferenza forse non c'è da tanti ma altri tipi di attività invece sì cioè uno potrebbe rilevare quanto gli studenti fra di loro si scambiano informazioni ma anche se copiano non copiano ma anche semplicemente quanto interagiscono per costruire un lavoro di gruppo quanto interagiscono con il docente quanto navigano nei contenuti tutti questi dati potrebbero usarli per capire per avere un controllo no ma controllo in senso positivo semplicemente non per valutare nel senso dare un voto ma valutare nel senso di capire quello che sta succedendo andando a intervenire per recuperare chi è rimasto ultimo chi chi magari non sta seguendo bene se è rimasto non ha una situazione ottimale ecco c'è un caso di situazione non ottimale che è quella in cui quello ragazzo non si collega proprio cioè nel senso è rimasto completamente è talmente ultimo che non è neanche dentro la classe a distanza allora che fare in questi casi continuare cercando di dare un livello medio a tutti oppure occuparsi del più debole degli ultimi questo della frattura digitale è uno dei temi più trascurati forse all'inizio nella foga di cominciare nell'ansia di cominciare e più emersi poi nell'ambito del dibattito sia rispetto agli strumenti che rispetto alle competenze cioè è venuta fuori una frattura digitale un divario che andrà colmato Rossi Dori è il vice ministro ha detto la scuola dopo dovrà porsi in maniera ossessiva il tema delle disuguaglianze bisognerà investire molto su questo e non è possibile che ci siano allievi di serie A e di serie B questo riguarda anche le competenze oltre che le strumentazioni di carattere digitale riguarda la riflessione sul digitale quindi la cultura digitale un altro elemento di debolezza sono stati i bambini cosa ti resterà della voglia di cosa hai più voglia in questo momento in cui sei particolarmente limitato chiuso in casa non puoi uscire eccetera allora la voglia di andare nei posti dove adesso non posso andare ma anche la rabbia contro i poliziotti cattivi che non lasciano venire non mi lasciano vedere la nonna quindi voglia di tornare fuori di tornare a scuola anche per tornare con i compagni e con la maestra che sono elementi fondamentali della loro infanzia c'è poi tutto la partita che riguarda gli disturbi specifici di apprendimento e della disabilità la scuola come dicevamo non è partita riuscendo a organizzarsi tutti insieme ma la situazione era anche particolarmente grave ma dall'altra parte la scuola è fatta di tanti percorsi e di tanti rapporti individualizzati e quindi di tanti progetti individualizzati quanti sono gli alunni che non sono un greggio e non sono una categoria questa è la enorme fatica dei docenti che devono tenere insieme ragazzi e bambini di livelli diversi abbiamo già parlato fra le tante che cominciano a uscire indagini statistiche o indagini di soddisfazione rispetto all'indagine del ministero dell'istruzione quello che è venuto fuori dalle parole del ministro è una situazione a macchia di leopardo che evidentemente non può andare a regime dall'altra parte la tecnica della scuola ha fatto un'indagine sul livello di soddisfazione dei docenti dopo un mese di lavoro e il 70% di loro si dichiarava non soddisfatto di quello delle attività che era stato possibile online condurre finora e dall'altra parte invece un 30% circa si riteneva ritenevano positive le lezioni a distanza il dubbio è più che un dubbio è che quelli che sono soddisfatti sono i docenti che già avevano delle buone competenze di carattere digitale mediamente nella scuola si calcola che ci sia vedremo i dati un 30% di docenti ben attrezzati al digitale un 50% che usano il digitale una volta ogni tanto che può anche essere solo una volta alla settimana e un 30% che continuano a rimanere nella posizione non lo conosco ma non mi piace è evidente che si tratta di una soluzione provvisoria in un caso di emergenza quindi usiamo le cose possibili nel modo migliore possibile ma senza enfatizzare come se fosse magico quello che noi troviamo e che riusciamo a realizzare soprattutto per i bambini più piccoli per la primaria c'è un divario tecnologico che riguarda ovviamente le famiglie vedremo dei dati che sono relativi al CID a 750 risposte di docenti ma ci sono poi anche indagini di cui parleremo nel webinar che sono indagini che hanno a che fare con che cosa avete usato quali strumenti e così via quindi potremmo affinare la riflessione e la ricerca in un prossimo incontro che sarà il 4 di giugno in un webinar che dà racconto anche di tutti gli studi e di tutte le statistiche e quindi delle conclusioni ma anche delle prime proposte che stanno emergendo la conclusione è legata a due punti da un lato noi stiamo vivendo una triplice crisi che è una crisi sanitaria che è una crisi economica forte e che è anche una crisi psicologica molto forte e quindi il nostro compito di adulti e di docenti e di formatori e di genitori è quello di tenere insieme queste situazioni di riuscire a vivere e a far vivere queste situazioni in modo accettabile da parte dei ragazzi è ovvio dicevamo che gli strumenti che ha una democrazia specie se è una democrazia malata ma che deve comunque fare i conti con una pluralità di diritti e una pluralità di punti di vista e di posizioni è più complessa anche se più auspicabile di quello che fanno le dittature come quelle della Cina che a un certo punto ha deciso che la crisi era finita e si è messo a venderci le mascherine allora la conclusione è questa che la didattica a distanza a mio avviso ha messo in gioco tante cose nella scuola intorno alla scuola che sta a noi e alla società essere coerenti con le conclusioni che stiamo tirando siamo certi o almeno io auspico che la scuola dell'anno prossimo sia ancora una scuola di transizione come lo è nei paesi in cui è già ricominciata salvo poi fermarsi perché si verificava un aumento dei casi la scuola del prossimo anno quindi quella dei doppi turni o del 50 e 50 sarà la scuola che ci traghetterà verso la scuola del futuro diciamo che se c'è qualcosa di positivo che la scuola ha che scusate che la crisi ci ha lasciato è la possibilità di pensare a una nuova scuola oltre che a una nuova società io mi fermo qua vi ringrazio per l'attenzione ringrazio in modo particolare Stefano Penge che ci ha portato la sua competenza e riparleremo di queste cose appunto sempre all'interno di questa rubrica ma nel webinar che si terrà il 4 di giugno grazie e buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti